Come da prassi le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Pongo in votazione la risoluzione Dori, Bazzoli, Annibali e Conte, su cui il Governo ha espresso parere favolevole. Dichiaro aperta la votazione. Rizzone, Miceli San Gregorio De Toma Parentela Adelizzi Berlinghieri Miceli ancora non riesce Caparbi Sottosegretario Liuzzi ai banchi del Governo Colleghi hanno votato tutti No, Caparbi Lorenzoni, Caparbi Tutta una tecnica per consentirle di votare, non le voleva l'otto La sua collega ha visto Bene, dichiaro chiusa la votazione La Camera approva Un astenuto 309 voti favorevoli 200 contrari Pongo in votazione la risoluzione Molinari Germini Lollobrigi Del Lupis